Un cordiale saluto a tutti voi, oggi è venerdì 14 agosto 2015, siamo alla vigilia di Ferragosto e allora tra poco vedremo i giornali, adesso il santo del giorno, oggi è un santo conosciuto famoso San Massimiliano Maria Colbe, il sole è sorto alle 6.11 e tramonterà alle 20.14, avremo un cielo nuvoloso in mattinata con aumento della copertura da ovest nelle ore pomeridiane per nuvole stratificate e localmente per nuvole cumuliforme. La possibilità di locali rovesci o temporali pomeridiani esiste, informazioni sulle zone montane ed un successivo spostamento verso la costa. Le temperature sono in aumento, i venti deboli sudorientali lungo la costa da deboli a moderati sud occidentali nel settore interno. Per la giornata di Ferragosto ecco il quadro della situazione così come ce lo propone la protezione civile delle Marche. Avremo dunque per domani un cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con locali addensamenti più intensi, precipitazioni con rovescio temporali sparsi durante la mattinata e nelle ore pomeridiane. Le temperature sono in diminuzione, i venti deboli sud occidentali, il mare sarà poco mosso, dunque la giornata di Ferragosto sarà probabile con la pioggia. Domenica non cambia di molto, anzi peggiorerà probabilmente perché avremo precipitazioni sparse, anche carattere di rovescio temporale in attenuazione verso la sera. Le temperature in ulteriore diminuzione, i venti deboli dai quadranti settentrionali, poi tenderanno a ruotare da sud in serata e il mare sarà poco mosso, dunque per effetto di questi venti da nord, da settentrione la temperatura diminuirà ancora. Nei prossimi giorni avremo lieve instabilità residua, nella giornata di lunedì in particolare, poi il tempo tornerà di nuovo bello per martedì e le temperature saranno in ripresa. Ripresa. Allora, cominciamo dunque a leggere i giornali. La pagina di Fano del resto del Carlino si occupa questa mattina, così come gli altri quotidiani, del controllo effettuato dai carabinieri dei NAS. NAS sta per nucleo, antisofisticazione. Praticamente sono coloro che permettono, controllano che ciò che mangiamo sia di buona qualità o perlomeno non sia scaduta. e allora i NAS hanno controllato una serie di stabilimenti balneari e hanno trovato del cibo non in regola in una spiaggia, in una concessionaria, in una spiaggia in concessione a Baia del Re. Sigilli allo stabilimento balneare. I NAS hanno rilevato pessime condizioni igieniche e sanitarie. Il titolare dice addio piadine, multa da 10.000 euro, raffiche di contravvenzioni. La sorella del ministro Chienghe, si sapeva che ha una sorella a Pesaro. Nell'altra sera ha partecipato a un concorso di bellezza, Miss Over a Rosciano di Fano e ha vinto. Dunque Dora, che è appunto la sorella dell'ex ministro, che fa la sarta a Pesaro, ha conquistato la fascia. La sorella della Chienghe, questo è il titolo, eletta Miss Lady Over 50. Ieri sera c'è stato un derby, un derby e qui vi raccontiamo non il calcio giocato, ma quello che è successo fuori dallo stadio. Un derby Fano Ancona, che ha visto purtroppo protagonisti alcuni facinorosi tra le fila dell'Ancona, che a un certo punto hanno creato un po' di subbuglio fuori dallo stadio, prima della partita. Ci siamo collegati anche noi ieri sera proprio in corsa durante il telegiornale con Catalani fuori dallo stadio. Ecco gli scatti fotografici di alcuni momenti di questa carica della polizia per cercare un attimo anche di separare due tifoserie. Derby violentato, botte da orbi, agguato dei tifosi dorici, tifosi dell'Ancona, con il volto coperto contro i fanesi. Ci sono state appunto cariche della polizia, gli assalti si sono ripetuti a più riprese con i granata che lanciavano sedie e bidoni per difendersi. Poi sono arrivati gli agenti della polizia. Sono sbucati al bar Metauro da una strada laterale, armati di bastoni e di altri oggetti. È stata una vera e propria spedizione punitiva, scrive il giornale questa mattina, che per certi versi ha ricordato le odiate di stampo fascista, quella messa in atto da una cinquantina di ultra dell'Ancona, che mezz'ora prima dell'Amichevole hanno aggredito un gruppo di tifosi granata, che sostavano davanti al bar Metauro in attesa di entrare allo stadio, che dista soltanto qualche decina di metri. Come è andata a finire la partita? Quello invece è dentro lo stadio, nel rettangolo di gioco. Ha vinto l'Ancona 2-0, più organizzata. Dopo gli scontri finisce 2-0 un match vivace, ma i granata si fanno rispettare. Chiacchiarelli sfiora il pareggio prima che Veloci chiuda i giochi su punizione di radi. Candele, le candele di Pesaro, si parla ancora oggi sul giornale, con due pagine anche oggi sul resto del Carlino, di questo successo. Candele sotto le stelle è già un cult. Ricci dà già appuntamento al 2016. Il sindaco incontenibile parla di 40.000 persone in spiaggia. In tilt anche la rete, per gente che ha postato, scritto, eccetera, eccetera, e ha voluto condividere questo momento comunque davvero bello. Con davvero due soldi, con un po' di candele, ma soprattutto l'idea si è riusciti a fare una bella iniziativa. Il sindaco ha inviato la pagina del Carlino dove si fa il confronto con la notte rosa a Agnassi che da Rimini fa il primo della classe. Insomma, questa diatriba, certamente è una bella iniziativa che sicuramente troverà poi ulteriori idee da mettere in campo per il prossimo anno. Un'operazione, come dicevamo, low cost, cioè a basso costo, che ha dato grandi risultati. Il Comune parla di una spesa di circa 10.000 euro, con un indotto invece che, secondo gli organizzatori, immediato ha portato diverse migliaia e migliaia di euro. Da novilare invece, more schiacciato dal trattore parcheggiato in salita. Orribile fine per Domenico Lugli di 79 anni che stava lavorando nel suo campo, ferita la moglie, il freno a mano non ha tenuto completamente, il decesso è stato immediato. L'ultimo saluto a Gloria Rastelletti, il padre dice sono stati giorni d'inferno, il papà è questo giovane, questo ragazzo che ho appena cerchiato con l'evidenziatore giallo. Giorgia invece, Giorgia è a sinistra, Gloria invece, eccola qua, la sorella. Sono due sorelle rispettivamente di 26 e 29 anni. L'ultimo saluto a Gloria, questa ragazza qui a destra, la ragazza che insieme alla sorella in Australia ha avuto un incidente, è già stata cremata, sarà tumulata con il nonno Franco Ballerini, morto anche lui in un incidente. La sorella ferita dice, Giorgia è molto forte, dice il papà, ma l'operazione era davvero difficile, davvero complessa. Ha dormito con la piccolina. E ancora dai quotidiani, apriamo adesso il Corriere Adriatico, anche qui in apertura la cronaca, la fotografia di questo trattore che si è sfrenato e che ha ucciso questo uomo di 76 anni, che è morto praticamente quasi subito. L'infortunio è accaduto ieri pomeriggio a Novilare, il pensionato stava innaffiando il suo frutteto. Da Ferragosto alla Stradomenica, weekend scoppiettante, per la serata concerto alla palla di pomodoro di Pesaro e i tradizionali fuochi d'artificio. In caso di pioggia, l'assessore Vimini ha annunciato che musei civici, pescheria e casa Rossini saranno aperti. Tre giorni indimenticabili, tre giorni rinascimentali, e poi immagino saranno spero indimenticabili, quelli di Urbino per la tre giorni dedicata alla festa del Duca. Parte dunque oggi la grande Kermess. L'Inghilterra è il paese ospite. L'appuntamento è per oggi alle 16, quando il corteo storico aprirà questi tre giorni di festeggiamenti per rivivere uno dei momenti più importanti della storia feltresca, al suono dei tamburi e allo scoccare di frecce ricordando le atmosfere rinascimentali e il prestigio del Monte Feltro nella 34esima edizione della festa del Duca, che anche noi di Fano TV seguiremo in trasferta da oggi fino a domenica. La pagina di Fano. Blitz dei Nass, sigilli al Kendua Beach, ristorazione nelle spiagge, verifiche e sanzioni. Nello stabilimento di Baia del Re, igiene pessima. Trovate alimenti precotti, conservati all'interno di un capanno, privo di controllo termico. Poi, sempre la cronaca, vede il ladro dentro la sua stanza, grida e mette in fuga sia lui che il complice. E questo è accaduto in città, dalle parti della trave. Ok, andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico, perché il Corriere si occupa di questa consegna, una onorificenza, la città onoraria a un grande cantautore italiano, stiamo parlando di Enrico Ruggeri, che come vi abbiamo raccontato più volte, andando a Marotta, ha avuto grandi ispirazioni, come quella del Mare d'Inverno, una canzone davvero straordinaria e molto bella, che ha ricantato di fronte a migliaia di persone che vedete immortalate in questa fotografia. Il concittadino plaude all'unificazione tra Marotta e Mondolfo e dona un concerto da brividi. La pagina del Messaggero, e cambiamo giornale, la pagina delle Marche del Messaggero, si occupa invece di un'assurda morte, quella di Alessandro Zamboni, di 46 anni, di Senigallia, che si schianta con il suo motorino, decide di non farsi aiutare, di non salire sull'ambulanza, di non farsi medicare, riparte con il suo motorino, lo ritrovano l'indomani mattina, accasciato sullo scooter, morto, dissanguato. Davvero una morte assurda. Il cordoglio di tanti amici, di tante persone che l'hanno conosciuto, il titolare dell'Enoforum, trovato senza vita appunto in sela sul motorino, si indaga per omicidio all'inizio, perché c'era praticamente quando l'hanno trovato, così accasciato sul motorino, aveva un profondo taglio alla gola. E quindi si è subito pensato a qualcuno che poteva averlo ammazzato. In realtà poi hanno ricostruito quello che è successo. Non si è trattato di una ferita d'arma da taglio, ma probabilmente di una caduta o su un guardrail o qualcosa del genere. E quindi poi l'orribile fine. Questo, eccolo qua, Alessandro Zamboni, era stato tra l'altro ad una sagra per aiutare un amico a servire i clienti, scrive il giornale, dopo l'incidente in moto si è dileguato prima dell'arrivo del 118. Candele, sempre dal messaggero, Candele è stata una notte magica, una cartolina, dice il sindaco, da spedire in tutto il mondo per promuovere la nostra bella città è stata una svolta. Calcolate oltre 40.000 persone da Baia Flaminia a Fosso Signore tutte vestite di bianco. Una partecipazione davvero straordinaria. E poi ancora dal messaggero non solo festa, quella delle Candele, ma durante questa festa sono stati fatti anche controlli e anche delle multe. Infatti nel momento clou della notte delle Candele scattano le verifiche della Guardia di Finanza e della SIAE sui permessi e sulle licenze. Sanzioni alle auto in sosta selvagge in Viale Trieste e Baia Flaminia e anche lungo la panoramica sul San Bartolo. Gli operatori parlano di viabilità e stalli da migliorare per queste serate servono parcheggi ad hoc. Poi ancora la festa del Duca dal messaggero Sgarbi. Vittorio Sgarbi veste i panni del Cicerone, prende il via la tre giorni di cortei, tornei e sbandieratori. L'assessore domani guida, quindi l'assessore inteso come Sgarbi, che è assessore del Comune di Urbino, guida d'eccezione alla mostra della data. Poi si parla sempre a proposito della festa delle Candela, all'hotel Excelsior. C'è stato un ricevimento dove gli ospiti del ROF sono andati subito dopo aver ascoltato e seguito l'inganno felice che ha durato un'ora e mezzo e in queste fotografie vedete alcuni scatti con per esempio questa qui con Filippetti Filippetti e Tittarelli. Andiamo sull'ultima pagina, quella del messaggero di Fano. Il mercato in piazza a Ferragosto divide il commercio, alcuni negozianti non apriranno, altri invece lo faranno, ma solo per mezza giornata. Presto un confronto con la categoria sulle manifestazioni in occasione delle festività del prossimo anno. Ormai si cerca davvero di metterci una pietra sopra, stiamo già parlando di Natale praticamente. L'assessore Cecchetelli, la decisione è stata concordata e comunicata nell'aprile scorso. Poi puliscono un fosso e trovano una granata, è accaduto in località camminate. Poi per chi è stato vittima del maltempo c'è un mese per chiedere i rimborsi. E soprattutto c'è un modulo da presentare e bisogna farlo protocollarlo entro il 9 di settembre prossimo. Poi sotto, i nostalgici degli anni 70 inaugurano una collezione dei turisti, che sono turisti affezionati al nostro territorio, in particolare a Torrette di Fano, presentano i loro cimeli in un incontro presento i loro cimeli. Cioè hanno, ve l'abbiamo fatto vedere ieri nel telegiornale, vengono qua da tantissimi anni, hanno raccolto nel tempo come accade, si prende una cosa, poi si mette in soffitta oppure nel garage. Ecco, andando a ritrovare, andando a rivedere, a rivisitare un po' queste cantine, questi scantinati, queste soffitte, è venuto fuori che insomma c'erano dei cimeli davvero interessanti degli anni che furono. e loro hanno deciso di fare una piccola mostra. Ed è tutto per la rassegna stampa di oggi. Quindi vi ringrazio, vi ringrazio per averci seguito. La rassegna torna domani mattina in diretta alle 7.30, questa sera alle 20.30 invece vi aspetto per il telegiornale Occhio alla Notizia. A voi tutti l'augurio di una buona e serena giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.